Dare un nuovo impulso all'attività del distretto rurale forestale pistoiese e alla montagna, questo è il frutto dell'individuazione del GAL Montagna Appennino, come soggetto referente per la governance tecnica del distretto. L'importante passaggio sarà rilanciato nella mattina di venerdì 15 marzo a Campo Tizzoro con un convegno presso i locali del progetto Motore. Dove si parlerà di politiche forestali, di nuova programmazione e dove si metteranno a confronto le istituzioni, il mondo scientifico, le imprese, le rappresentanze anche delle varie realtà imprenditoriali e dove speriamo di riuscire a rilanciare proprio l'attenzione su un comparto estremamente importante per lo sviluppo della montagna pistoiese. Cosa vuol dire concretamente per il GAL e per il distretto questa partnership che si è realizzata? Significa creare una sinergia importante tra quelle che sono le politiche del GAL e quelle che sono le politiche del distretto sull'area pistoiese. Significa poter intercettare delle risorse, poter realizzare delle progettazioni ma soprattutto diventare un laboratorio di idee, un punto di riferimento su quelle che sono le politiche forestali in particolare della montagna pistoiese.